Le ore galoppano verso l'appuntamento di sabato prossimo alle 12 presso il Tribunale di Campobasso e dentro i partiti, i movimenti e le coalizioni ormai si lavora ciclo continuo a tre turni come nelle fonderie. Nel centrosinistra è la lista di costruire democrazia ad offrire una novità di rilievo. A capitanare la formazione sarà il leader e fondatore Massimo Romano. La sua candidatura, data per esclusa in un primo momento, è invece nuovamente nell'elenco di coloro che scenderanno in campo. La presenza di Romano è considerata da molti un elemento di garanzia per una buona performance della rediviva formazione. Va ricordato infatti che l'ultima prova per la formazione civica risale al 2013, quando Romano si candidò a capo della coalizione Vincere per Cambiare, all'interno della quale confluirono costruire democrazia affare Molise e democratici per il Molise. Complessivamente la coalizione conseguì l'11% dei consensi e 21.000 voti. In quella circostanza a costruire democrazia andarono 8.500 voti e una percentuale del 5%. La presenza di Romano quindi è ritenuta garanzia ai fini del conseguimento del quorum. Ricordiamo che la nuova legge elettorale pone lo sbarramento minimo al 5%. Insieme a Romano ci dovrebbe essere anche l'avvocato Enzo Iacovino. A spingere per la sua candidatura c'è parte del comitato Vittime Covid. Sul fronte del centrodestra la novità di peso riguarda la lista del presidente, quella che sta approntando Francesco Roberti, all'interno della quale è impredicato l'ingresso del sindaco di San Martino in Pensilis, Giovanni Di Matteo. Nel centro basso Molisano va segnalato si sta registrando un boom di candidature con quella certa del segretario del PD Facciolla e sempre nel Partito Democratico, ma in quota articolo 1, quella di Francesco Totaro. Con quella di Di Matteo sarebbero tre quindi nomi in campo. Tra i sindaci a scendere al fianco di Roberti ci sarà anche quello di Tavenna, Paolo Cirulli. Sempre sul fronte centrodestra in queste ore c'è da registrare un picco nelle attività dell'Udc. Alle prese con la compilazione della lista stanno lavorando pancia a terra il segretario nazionale Cesa, il presidente del consiglio regionale Micone e il segretario regionale Di Pietro. Tornando al centro-sinistra da segnalare un ritorno al lagone politico dell'ex sindaco di Termoli, Vincenzo Greco. La sua dovrebbe essere una candidatura all'interno della lista che raggruppa Verdi, Sinistra Italiana e Comunisti. Sul fronte delle liste civiche resta al momento in piedi solo il Molise che vogliamo, collegata al centrodestra, mentre nel centro-sinistra le defezioni di Molise Domani e Molise Solidale non sono state reintegrate da alcuna nuova formazione.